Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Orkoverde questo ragazzo è un video urgente dove il quale vi volevo informare che la Rockstar ha rilasciato un nuovo evento con veramente parecchi sconti e a differenza degli altri eventi che ha rilasciato Rockstar nelle precedenti settimane questo evento dura solamente 3 giorni perché dura 3 giorni? semplicemente perché è martedì 4 ottobre come ben dovreste già sapere vi ho anche informato in un video precedente uscirà il DLC Centauri o comunque sia in inglese DLC Bikers questo evento è iniziato ieri e terminerà il 3 ottobre quindi l'evento dura ben 3 giorni questo evento è pieno di sconti però vi consiglio di non spendere tanti soldi di lasciarvi un po' di soldi e vi parlo di milioni dato che i contenuti che usciranno nelle nuove DLC saranno parecchi e penso anche costosi quindi vi consiglio di tenervi qualche milione da parte per quelle DLC come sconti c'è lo sconto del 50% sugli uffici c'è lo sconto del 50% sui magazzini c'è lo sconto del 25% su arredamenti e personalizzazioni per uffici c'è lo sconto del 25% sui carichi speciali e qui ragazzi vi do un consiglio fate i carichi speciali quindi riempite di casse il vostro magazzino dato che saranno praticamente tutti scontati e saranno scontate anche le casse che acquisterete per riempire il magazzino per questo motivo vi consiglio di utilizzare questi tre giorni per riempire il magazzino di casse anche più di uno per poi poterlo vendere e guadagnare più soldi possibili per il nuovo DLC c'è lo sconto del 25% sulle migliorie ai veicoli per le consegne dai tavoli da lavoro valido per Brickade, Kuban 800 e Rimorchiatore questi veicoli sono i veicoli della Pegasus che si possono utilizzare o meglio che si devono utilizzare per vendere il magazzino per svolgere l'incarico finale per vendere il magazzino e praticamente modificando questi veicoli andranno più veloci saranno più blindati e sarà più difficile farli esplodere nel caso dovesse qualcuno tirarvi una bomba adesiva per farvi esplodere tutto resisterà con più colpi poi c'è il pigiama cashmere giallo e giacca smoking abbinata sbloccabile tramite l'accesso almeno un secondo entro la fine dell'evento su gt5 online se non accedete entro la fine di questo evento su gt5 online non potrete avere questo pigiama in nessun altro modo inoltre c'è lo sconto del 50% sulla limo con torretta c'è lo sconto del 25% su tutti i modelli del Buckingham Swift e Luxor da Elitas Travel ovvero il sito degli aerei e elicotteri poi c'è lo sconto del 25% su Anis Re 7b Emperor e TR-1 e Progen Tyrus nel sito Legendary Motorsport poi c'è lo sconto del 50% sulle consegne speciali della Pegasus sui servizi di Leicester e sui servizi della Meriwether tutti scontati al 50% come bonus ci sono gli RP doppi negli incarichi e nelle sfide per boss e CEO poi ragazzi come ultima cosa c'è la gara stante premium la gara si chiama post bruciatore e praticamente tutti i piloti che parteciperanno a questa gara riceveranno tripli RP e non solo che arriva primo riceverà 100.000 dollari il secondo 30.000 dollari e il terzo classificato recupera i soldi della spesa per partecipare a questa gara premium ovvero 20.000 dollari se non avete capito dovete pagare 20.000 dollari per partecipare a questa gara stante premium questi ragazzi praticamente sono tutti sconti bonus se volete un consiglio fate soldi con le casse riempiendo il magazzino per poi venderlo così che vi farete dei bei milioni in poco tempo per il nuovo DLC detto questo ragazzi vi lascerò il link in descrizione dell'articolo riguardo questo evento del sito Rockstar Newswire spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento iscrivetevi al canale condividete questo video sui vari social network e da AllCover tutto noi ci vediamo al prossimo video bella